Sequestrati in un bar a Marina di Ragusa dalla Guardia di Finanza, quattro videopoker non collegati alla rete telematica dell'amministrazione finanziaria, in modo tale da eludere i controlli. Le slot machine scollegate alla rete eludevano i controlli delle autorità competenti sulle giocate, non pagando le dovute imposte. Al titolare del bar, proprietario dei videopoker, sono state elevate sanzioni penali e amministrative per oltre 200.000 euro. Previste nel caso di abusivismo nel settore del gioco d'azzardo. Le attività di controllo sono volte anche alla tutela dei consumatori minori a quanti travolti dal fenomeno della ludopatia.